Gentili telespettatori, buona giornata. La sinistra chiede in coro le dimissioni di Toti. Giuseppe Conte che ha chiesto le dimissioni anche del governatore, alla fine non governano proprio niente, sono dei presidenti di regione, sono degli amministratori, non governatori, amministratori. Giuseppe Conte aveva già chiesto le dimissioni del presidente della regione Puglia, Emiliano, oggi ha chiesto le dimissioni di Toti, e aveva chiesto proprio Conte di prendere le distanze da queste persone ai rispettivi partiti di appartenenza, anche se Toti è il partito suo. Nel senso, oggi Toti non è più in Forza Italia, non è più il delfino di Berlusconi. Dice così Giuseppe Conte, c'è un problema oggi in Italia di questione morale. C'è un tariffario da nord a sud, si paga per un voto in campagna elettorale da 10 o 20 euro fino a 50 euro per voto. Quindi anche 10 euro. Ci sono zone dove ti pagano anche 10 euro per un voto. Dobbiamo rigenerare dall'interno la politica, dice Giuseppe Conte. Beh, tra il dire e il fare c'è di mezzo l'impossibile, perché quando si dice cambiamo il mondo del lavoro perché ci sono troppe morti sul lavoro, una cosa è dirlo, ma farlo cosa significa? Da dove parti? Come ti giri? Quando il mondo del lavoro è in un certo modo in Italia. Lavoro povero, sottopagato, subappalti, gente senza protezione. Cioè è facilissimo dire cambiamo il mondo del lavoro, ma come cambi una cosa del genere? Da dove cominci? Che fai? E la stessa cosa è rigenerare dall'interno la politica. Con le inchieste famosissime Mani Pulite che aveva portato a scoperchiare il pentolone della corruzione in Italia, dopo tanti anni si pensava che il sistema di corruzione in politica fosse ai minimi termini, visto quello che era successo con Mani Pulite, ma si scopre che nulla è cambiato dai tempi di Mani Pulite. Anzi, oggi forse è anche peggio, molto peggio. Quindi quando Conte dice rigeneriamo dall'interno la politica, è facile dirlo, ma che fai? Dovesse andare sulla Luna e costruire un'altra Italia lì? Ma come fai? Nel senso, cambiare il mondo del lavoro, cambiare la politica, come fai? E come cambiare le persone? Adesso cambio quella persona, le persone non si cambiano. È un qualcosa di culturale, è un qualcosa nel DNA. Quindi come fai a cambiare la politica dall'interno? Bello da dire, ma in pratica, se voi chiedete a Conte, in pratica a Giuseppe Conte, dimmi come rigeneri la politica dall'interno, non saprebbe rispondervi, perché sono quelle cose dette un po' così. Dice, andiamo a votare in massa, tutti quanti, così non ci sarà più bisogno di pagare il voto. No, il voto lo pagano lo stesso, che vanno a votare il 50% degli aventi diritto o il 100%, il voto si compra lo stesso. Ecco, comunque... Dice, l'inchiesta è appena avviata, stanno emergendo dei fatti, dobbiamo tenere al riparo le istituzioni da un discredito che fa male a tutti. Non è mettendo la mordicchia alle procure che si risolve il problema della corruzione, del malaffare e dello scambio politico mafioso. A quello che vi dicevo prima, come risolvi il problema della corruzione? Come risolvi il problema del malaffare? Come risolvi il problema dello scambio politico mafioso? Come lo risolvi? E non c'è una risposta. Salvini dice, non mi basta l'iniziativa di un giudice per sentenziare che qualcuno a Bari o a Genova è una persona per male, quindi conto che si faccia chiarezza il prima possibile. Toti, per me, dice, ogni cittadino italiano innocente fino a prova contraria a Bari, a Torino, a Genova e ovunque, e quindi non commento. Mi spiace, però, io stesso sono a processo e rischio alla galera perché ho bloccato gli sbarchi. Mentre Giuseppe Sala, detto Beppe, per gli amici, dice, è difficile commentare, anzi direi che non si può. Io Toti lo conosco bene e l'ho visto anche di recente in Liguria. Con lui ho anche un rapporto personale, quindi, al di là di questo, come si fa a commentare una cosa del genere? Eh, non lo so, Sala, tu che lo conosci bene, come si fa? T'hanno chiesto di commentare, come si fa? Non lo so, chiediamo a te, come si fa? Vabbè, come si fa? Quindi, è amico, quindi non posso commentare. Se era un nemico politico, allora commentava e come? A questo punto vi posso dire che a me poco importa se sia avvenuto prima o dopo delle elezioni politiche europee. Il fatto è i contenuti, sì, ovviamente questi fatti che arrivano a 31 giorni dalle europee è curioso, ti fa sospettare, però anche se fossero arrivati 30 giorni dopo le europee, comunque sia, se tutto poi è vero, ma il castello accusatorio è enorme. Si parla di decine di persone, decine di reati, di tutti i tipi, quindi non è un'accusa indirizzata esclusivamente a Toti per una cosa che avrebbe fatto. E' un'inchiesta gigantesca, un'inchiesta gigantesca che ha dentro di tutto, dalla mafia, alla corruzione, alla compravendita di voti, agli appalti, ai favori, alla politica, è una cosa gigantesca. Pensare che sia tutto falso, è impossibile. Quindi a me non interessa poi tanto che arrivi prima o dopo il voto perché queste cose non influiscono sul voto. E voi direte, cosa influisce sul voto? Niente, gli italiani votano perché gli sta simpatico questo o quel capo politico. Tutto lì, si vota per simpatia, non si vota per i programmi, che non ci sono, e non si vota per le idee politiche, che ce ne sono poche, e non si vota per le inchieste giudiziarie, si vota per simpatia dei capi politici. Tutto lì, voi direte, ma è un livello bassissimo, non si vota per programmi, per niente, solo perché ti piace o no il capo politico. Sì, esatto, è proprio così. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Arrivederci e grazie.